Comando orbitale Pippo decide di farlo diventare Un momento ancora più trash Mettendo Stone Age Attenzione! Muoiono i marauder! Muoiono i marauder! Morto no! Li micra! Li micra! Oh mamma li micra! Oh mamma li micra! Oddio li micra! Non muoiono! Non muoiono! Incredibile! Incredibile Happy! Non ti bloccare! Via la musica! Attenzione si è bloccato nel momento più bello! I tre marauder sono ancora vivi! I tre marauder sono ancora vivi e hanno ammazzato il colosso! Non ci credo! Momento incredibile! I tre marauder sono ancora vivi!